Allora intanto grazie a tutti di essere presenti a questa sessione, questa sessione ha lo scopo di presentarvi e introdurvi al cloud native attraverso la cosiddetta trial map, trial map, non trial, trial sarebbe prova, questo è trial map, proprio il percorso diciamo quello che viene fatto podisticamente. E appunto come dicevo prima è il percorso che la cloud native computing foundation ci indica come percorso idealmente da seguire per adottare le tecnologie cloud native in ogni aspetto applicativo e infrastrutturale. Intanto io mi presento, io sono Riccardo, lavoro da qualche anno come senior consultant in site, ero in team con Marco e Dino che sono presenti e che risaluto pubblicamente per i tempi ragazzi. Lo scopo del mio ruolo è quello di aiutare i miei clienti ad adattare meglio il cloud, ovviamente lavorando come consulente e spesso comunque li affianco nella migrazione e modernizzazione del loro workload e quindi cloud native è un concetto che affronto spesso con loro. Come vedete inoltre ho il piacere di essere Microsoft MVP come Marco nella categoria Azure e quindi ho deciso di proporre un parallelo fra i servizi open che la foundation ci consiglia con quelli della piattaforma cloud di Microsoft. Ho scelto proprio dire un parallelo perché non voglio fare un confronto fra quello che è meglio o peggio, ma è soltanto un'indicazione di quello che la foundation ci indica e quello che un vendor come Microsoft ci propone nel mondo cloud native. il QR code è il classico link al mio LinkedIn, quindi se volete linkarmi, linkatemi pure. Veniamo quindi a noi, se riesco ad andare avanti, eccolo qua, con il click. Quindi veniamo quindi a noi. Questa che vediamo è un estratto della mission che c'è proprio sul sito della Cloudnetic di Compute Foundation. La foundation è un organismo che fa parte della Linux Foundation e che nella sua definizione 1.0 dell'estratto della mission scrive, lo leggiamo insieme, le tecnologie cloud native consentono alle organizzazioni di creare ed eseguire applicazioni scalabili in contesti moderni e dinamici, sia esso cloud pubblico, privato o ibrido. i container, i service mesh, i microservizi, infrastrutture immutabili e APIs esemplificano questo approccio, sono strumenti per esemplificare l'approccio del cloud native. Queste tecniche abilitano a sistemi illusi coupled che sono resilienti, sono gestibili e osservabili. In combinazione a una solida automazione consentono agli ingegneri, quindi al personale tecnico in genere, di apportare modifiche ad alto impatto in modo frequente e in modo prevedibile con il minimo sforzo. La Foundation cerca di guidare l'adozione di questo paradigma promuovendo e sostenendo un ecosistema di progetti open source indipendenti dal fornitore. Quindi viene fatta una democraticizzazione, non so se si dice, comunque democraticizzano i modelli alla varunguardia per rendere queste innovazioni accessibili a tutti. quindi ci danno una mano a scegliere nel vario ecosistema quali sono i servizi, i prodotti e le tecnologie che ci possono servire ad adottare il paradigma cloud native. Per questo nasce la trial map. La trial map è un overview che serve appunto per indicarci un percorso che dovremmo intraprendere con le nostre aziende. Quindi vogliamo adottare il cloud native? Ecco, iniziamo a guardare insieme la trial map. È un percorso che viene aggiornato costantemente dalla Foundation. Addirittura si dice che, cioè si dice, c'è scritto proprio nel sito della Foundation che vengono inclusi i progetti delle aziende che hanno almeno 300 stelle su GitHub. Quindi se un progetto è seguito fondamentalmente a 300 stelle, vuol dire che almeno 300 persone sono interessate a quel progetto. Però ovviamente se un'azienda ha interesse ad essere inserita nell'elenco delle applicazioni che la piattaforma consiglia, è possibile contattare la Foundation e ovviamente verrà fatto una verifica esplicita per capire se il servizio ha le caratteristiche necessarie per essere inserita nel percorso. Ovviamente fanno anche pulizia di progetti. Magari addirittura c'è scritto che i progetti non aggiornati da tre mesi, tre mesi informativamente possono essere tanti, possono essere pochi, quindi se i progetti non sono aggiornati da tre mesi, vengono contattati, se non hanno risposta vengono tolti dal progetto, quindi dall'ecosistema. Quindi sono molto ligi e molto attenti a questi servizi e alla bontà e all'aggiornamento di questi servizi. Ci sono dieci step, le vedete anche qui nell'immagine, da uno a dieci, dieci step che ognuno con le proprie caratteristiche, scelte diverse, servizi diversi e in questa sessione l'idea è quella di analizzarli un passo alla volta, capire i servizi da loro indicati quali sono e appunto fare un parallelo con i servizi della piattaforma di Microsoft, ovvero Azure. se volete vederla poi offline, il link alla trial map è questo, ho fatto un bitly per semplificare, poi ovviamente ve lo passeremo al termine della sessione insieme alle slide. Quindi niente, questa è la nostra mappa, se siete pronti partiamo, iniziamo a correre verso questa mappa. Partiamo con la containerizzazione, il primo passaggio, che fondamentalmente è abbastanza semplice, perché? Perché ormai, intanto credo che ormai tutti sappiate cos'è un container, se ne parla da tanto tempo, ma riassumendolo brevemente, un container è un processo in esecuzione, o se la guardiamo da un punto di vista informatico, con vincoli di risorse e capacità che sono gestiti da un sistema operativo di un computer, molto banalmente. I file disponibili per questo processo container sono impacchettati come immagini, quindi le cosiddette immagini container. L'immagine di un container è un file statico, immutabile, che contiene tutte le dipendenze per la creazione del contenitore stesso. Queste dipendenze possono includere un singolo file binario, eseguibile, libri di sistema, variabili di ambiente, installazioni di SDK, di runtime vari, tutto quello che serve appunto per andare a eseguire poi dopo un processo all'interno dell'immagine. Le immagini poi sono salvate e versionate in un cosiddetto container registry, ovvero un registro che tiene tracce tutte le immagini lì presenti. e Docker fondamentalmente è lo standard di fatto, quindi è diventato standard di fatto ormai quando si parla di container si parla di Docker. Quindi è una scelta, diciamo, obbligata ormai, quando si vuole iniziare a lavorare con i container scegliamo Docker. Le applicazioni, questo che vi faccio comparire con le caselline, con il logo del Cloud Native Foundation sono proprio estratti dalla trial map, quindi vado a riportare i singoli passaggi e le generalizziamo insieme. Quindi appunto le applicazioni e requisiti, dipendenze di qualsiasi dimensione, fatta eccezione per pochissimi casi, possono essere containerizzate. Quindi nel tempo comunque dovresti pianificare la rischettura, la modifia dell'applicazione per avere funzionalità racchiusi in microservizi, nel senso che io posso ottimizzare le applicazioni che ho containerizzandole. E' un classico percorso nella cosiddetta modernizzazione. Però la containerizzazione non ti porta ai massimi benefici. Però, quindi, nel senso, l'obiettivo è che se io vado a containerizzare un qualcosa che non è studiato per il Cloud, dovrò prima o poi pianificare la rischettura in microservizi in modo ottimale. Allora, invece, lo sia già perfetto. Siamo già a posto. Poi, perché questo processo nel tempo, nel processo di migrazione dei vostri workload verso il Cloud e verso le tre strade comune, appunto, lift and shift, serve appunto per andare a ottimizzare poi dopo tutte le risorse che, come vedrete, sono collegate nel nostro sistema Cloud Native. Quindi, il primo passaggio è stato abbastanza endrore. Docker tutta la vita. CICD. Allora, per CICD indichiamo la continuous integration, la continuous delivery, continuous deployment, come lo vogliamo chiamare. Quindi, mettere in piedi un processo di CICD permette ai cambiamenti che, dicevamo prima, in fase di containerizzazione, di generare una nuova versione, una nuova immagine di container che è buildata, testata e deployata automaticamente su più environment. Development, staging, test e, se tutto ok, ovviamente anche sugli ambienti di produzione. è anche ottimo per gestire i lasci, gestire i rollback, nel caso, appunto, c'è un problema, se le pipeline di CICD, se è settate correttamente, possono anche tornare indietro a versioni precedenti e anche la fase di testing di quello che noi produciamo. Così permettiamo al team di lavoro di essere focalizzato sulla scrittura del codice e quindi sul vero valore della nostra applicazione, perché chi sviluppa, ovviamente, non deve preoccuparsi poi di tutta la distribuzione del software. Ci pensa direttamente a tutti i flussi di continuous integration, continuous deployment. In basso, vedete, nella slide, ho messo una parte sinistra con la foundation, con quello che indica la foundation e la parte destra con quello che Microsoft ci offre come Azure, all'interno di Azure oppure, diciamo, all'interno del suo mondo, del suo sistema. Quindi la foundation ci consiglia un prodotto che gestisce a livello di incubazione chiamato Argo e Argo è composto da un tool basato su Kubernetes per effettuare i deploy, eseguono processi, applicazioni, workflow ed eventi usando appunto il cassivo paradigma GitOps e MLOps. poi ne consiglia altri anche come Flag Reflux che appunto sono altri prodotti che sono gestiti all'interno della foundation. Ci sono tantissimi prodotti comunque per serie CD che sono indicati come prodotti da almeno da prendere in considerazione quando si fa una scelta degli strumenti su questo passaggio sulla parte di serie CD tipo c'è GitLab c'è Jenkins c'è K6 tantissimi altri non ho messo tutti insieme ho messo soltanto quello che appunto è indicato come incubation all'interno della foundation ma vedrete alla fine poi dopo come andare a vedere tutti i prodotti che ricadono in una singola categoria. Microsoft d'accanto suo ci mette a disposizione i due prodotti quelli che ormai immagino conoscere tutti che sono Azure DevOps e GitHub ok non vado a spiegare ulteriormente quali prodotti sono ma fondamentalmente sono prodotti sia Argo che DevOps che GitHub che gestiscono completamente il ciclo di vita del software quindi il cosiddetto ALM. Terzo passaggio andiamo a parlare di orchestrazione e application definition per quanto riguarda la parte di orchestrazione ovvero un servizio che orchestra nel vero senso della parola container assicurando che questi siano sempre attivi che lo scaling sia attivi quando è necessario o meno ho bisogno di potenza di calcolo o non ne ho più bisogno perché comunque le richieste sono minori si occupa di scalare in up and down o orizzontalmente anzi orizzontalmente verticalmente i miei container i miei servizi e Kubernetes anche qui è lo standard di fatto per quest'area quindi anche qui abbiamo uno standard che appunto vedete anche indicato come graduated perché ha assunto un livello talmente di adozione e di stabilità che appunto è diventato una delle colonne importanti insieme a Docker quindi comunque quando io vado a adottare un orchestratore dovresti comunque trovare un orchestratore che sia che sia diciamo un certificato da Kubernetes perché comunque Kubernetes ha la possibilità anche di andare a verificare le piattaforme quindi una distribuzione una platform un installer che sia certificato appunto da Kubernetes quindi diventa un supervisore anche dei prodotti che nascono per questo genere di attività quindi la parte di orchestrazione e application definition come detto il consiglio della foundation è Kubernetes e consigliano anche l'utilizzo di Elm come l'Emchart appunto per definire installare e aggiornare le applicazioni più complesse via Kubernetes un altro consiglio è Crossplane è un add-on per Kubernetes che permette ai team di infrastruttura di architetturale di infrastruttura per più vendor quindi diciamo un multitenant diciamo ed esporre dell'API self-service ai team applicativi senza scrivere codice quindi diciamo una gestione architetturale tramite API appunto di tutta l'infrastruttura quindi è un plugin sicuramente interessante da docchiare come vedete qui ho inserito i link ho cliccato sull'app un po' troppo ho inserito anche i link ai prodotti e quindi se volete approfondire poi dopo ci potete cliccare tranquillamente e andare a approfondire il tutto lato Microsoft ci sono due servizi vatti allo scopo c'è Azure Service Fabric che è l'orchestrator creato da Microsoft che diciamo ha subito un po' la diciamo la potenza di Kubernetes quindi non ci sono tantissime installazioni ma ci sono perché comunque il suo funzionamento è ottimo e poi dopo c'è HKS quindi o Azure Kubernetes Services quindi HKS per gli amici che è la versione pass serverless e manage di Kubernetes nel cloud di Azure quindi è managed perché di tutto è gestito dalla piattaforma di Azure offre l'integrazione con le pipeline di 6CD tramite DevOps GitHub viene gestita automaticamente la sicurezza e la governance la base ovviamente è tutto Kubernetes quindi utilizzare Helm utilizzare i controlli all'interno di HKS è identico come su un cluster non gestito direttamente da Azure su altre piattaforme inoltre scarica ovviamente il sovaccarico operativo in Azure stesso perché gestisce attività tipo il monitoring già integrato gestita la maintenance e addirittura i master di Kubernetes sono gestiti completamente da Azure e quindi dobbiamo soltanto monitorare i nodi con le varie immagini e vari pod quindi HKS da una versione manager dell'architettura dello strumento di Kubernetes quindi anche qui diciamo una scelta abbastanza obbligata Kubernetes delle varie definizioni e eventualmente con vari plugin che vanno a arricchire la mia offerta parliamo ora di observability analysis altro passaggio passaggio numero 4 l'osservability è una proprietà questo l'ho cercato quindi l'ho cercato io non sono non sono stato un frequentatore a studio dell'università però diciamo ho voluto ricercare la definizione un po' più accademica l'osservability è la proprietà di un sistema derivante dalla teoria del controllo del sistema stesso quindi è una misura di quanto bene gli stati interni in un sistema possono essere dedotti dalle sue uscite esterne al sistema quindi insieme alla controllabilità e altre proprietà di un sistema in pratica quello che si vuole fare è se io osservo un sistema voglio sapere se quel sistema sta funzionando bene oppure no quindi lo stato di salute dei tensoldoni Cloud Native dice appunto di adottarsi di soluzioni di monitoring di logging e di tracing che ci permettono appunto di vedere se effettivamente il nostro sistema è in salute oppure no propone un tool per ogni per ogni area per esempio qui propone Prometheus per il monitoring FluentD per il logging e Jagger non so come si pronuncia abbiate pazienza perché non l'ho mai affrontato non l'ho mai visto però diciamo so che è lo strumento di punta per la parte di tracing vedete anche questi sono gratuited perché sono comunque prodotti utilizzatissimi comunque la cosa che ci indica nella trial map se vogliamo utilizzare uno strumento per il tracing dobbiamo andare a cercare se non vogliamo scegliere fra quelli che ci indica lui degli strumenti che siano open tracing compatible ovvero è stato creato uno standard open tracing compatible e se lo strumento rispetta questo standard ci dà un grosso vantaggio perché quando volessimo sostituire con un altro lo standard è sempre quello quindi basta fare uno switch on switch off dei servizi e riusciamo a mantenere congruo tutto il sistema quindi adottare anche prodotti compatibili con delle caratteristiche che sono state generalizzate ci permetterà in passata di cambiare vari componenti in modo abbastanza indolore mettiamo sempre il condizionale perché diciamo le cose i problemi sono sempre dietro l'angolo però diciamo l'intento appunto di avere degli standard un po' come se fosse un'interfaccia ci permette di andare con i piedi un po' più di fiumbo la sua Azure cosa abbiamo abbiamo un unico servizio ora diciamo un unico servizio perché alla fine ora su Azure Monitor si sono andati a racchiudere tutti i vari servizi che in precedenza erano nominati singolarmente ma sono stati racchiusi e Azure Monitor è diventato un servizio completo per raccogliere i dati delle telemetrie sia da Azure che dall'onpreme addirittura con questo servizio si aggiunge un livello di osservabilità su più fronti dal networking all'infrastruttura ci addentriamo anche dentro ogni applicazione perché in pratica tutto quello che era l'application in site che non è scomparso ovviamente c'è ancora come servizio ma tutte le funzionalità sono state integrate all'interno del Azure Monitor e quindi posso arrivare a un dettaglio veramente minimale quindi grazie a questi servizi possiamo andare a risolvere e a scegliere i nostri servizi per la parte osservabilità e l'analysis andiamo sulla quinta siamo quasi a metà siamo quasi a metà quindi questa è la quinta parte service proxy discovery e mesh per questa parte cloud native indica anche qui alcuni servizi consigliati fra quelli disponibili per la service discovery ovvero un DNS server fondamentalmente quindi cercare i servizi tramite DNS ci propone quello che chiama core DNS quindi un vedetevi sopra un rapido e flessibile tool per effettuare service discovery seguono Envoy per la parte service proxy e Linkerd per la parte di service mesh tutti offrono un servizio di alt checking quindi comunque si collegano alla parte di prima alla parte di observability quindi sono servizi che possono essere monitorati la parte di routing e offrono anche la parte di load balancing per essere ovviamente in alta affidabilità service mesh cos'è? del temporale povere è un modello tecnologico che implementa un modo migliore per gestire il networking all'interno di un'architettura cloud native perché ovviamente aumentando il numero dei servizi che ci sono rendendo i meno servizi e il carico poi dopo va tutto sulla parte networking quindi i prodotti service mesh ci permettono di andare a ottimizzare e migliorare la comunicazione fra i servizi stessi quindi diventa fondamentale poi cioè sposta tutto sulla parte di comunicazione fra i servizi e quindi renderla orchestrabile controllata e velocizzata diventa poi il vero il vero successo ci sono altri mesh famosi oltre a quelli indicati oltre a linkerd io ho conosciuto Istio di google ho visto app mesh di AWS ho sentito parlare di Kuma quindi ci sono tantissimi servizi anche qui non sono tra quelli graduati o incubazione però sono ovviamente altri servizi Istio è famosissimo chi lavora nelle aziende enterprise sicuramente lo avrà sentito nominare o ce l'ha lavorato nel lato Microsoft non c'è un servizio vero e proprio ma è possibile utilizzare OMS che sta per open service mesh che è come add-on di HPS OMS è proprio un progetto originato da Microsoft e donato alla community e Cloud Native Foundation l'ha adottata l'ha messa all'interno non è fra gradated e fra incubating però è all'interno del panorama della Foundation la donna è ancora in preview se non ricordo male però è un qualcosa che si va a integrare direttamente su HPS anche perché ovviamente si vanno a lavorare insieme ai container e all'orchestratore quindi è tutto fuso insieme poi alla fine quindi avendo HPS hanno creato soltanto questo plugin che va a estendere le funzionalità di Service Proxy Discovery Mesh Bene parte numero 6 Networking Policy Security come detto appunto è un aspetto molto fondamentale da parte di networking quindi per andare a lavorare sulla parte networking Cloud Native Foundation ci consiglia prodotti CNI compliant come Calico Flannel WaveNet CNI compliant sta per Container Network Interface quindi prodotti che anche qui adottano uno standard che possono essere comunque intercambiabili in qualche modo per quanto riguarda la parte di Proxy il consiglio è quello di adottare OPA tutte sigle fondamentalmente Open Policy Agent che è appunto un agent per distribuire le polisi configurare distribuire le polisi e infine lato Security è indicato l'utilizzo di Falco che è appunto un engine per la anomaly detection per il cloud native anche qui vedete i link ai vari servizi ma ce ne sono tantissimi che ho durato veramente fatica a trovargli il posto perché comunque ovviamente ognuno preferisce il servizio che magari conosce di più che ha che ha provato e si è trovato molto meglio quindi sono tantissimi però ho voluto portare quelli che effettivamente sono poi stampati sulla pietra sulla trial map per quanto riguarda azure ci sono dei prodotti dei servizi che sono un po' comuni al mondo azure che sono stati poi ovviamente diciamo come si può dire cuciti per questa specifica caratteristica del cloud native per esempio si parla di RBAC per RBAC chi conosce azure sa che è il rule based access control quindi utilizzato molto per accedere al portale azure alle infrastrutture quindi io creo questi permessi e posso accedere ai miei servizi è la stessa diciamo tecnologia rivista ovviamente per in contesto cloud native quindi sapere chi può accedere a cosa all'interno dell'infrastruttura quindi la parte di accesso è gestita dal mondo RBAC poi c'è azure cni che cni ricordo la sigla mi sembra sta per appunto cloud native interface che è lo strumento che azure ha creato per poter andare a lavorare sulla parte di networking su hps anche questo è un qualcosa che va a integrarsi ultimamente su hps e poi c'è azure policy anche questo rivisto è ricalato nella parte hps che va appunto a lavorare all'interno dell'ecosistema del kubernetes di impasse di azure come vedete alla fine fondamentalmente anche qui l'icona ho lasciato quella del kps perché alla fine l'obiettivo è quello di fornire un servizio unico chiave in mano che abbia tutte le caratteristiche dell'ecosistema cloud native bene siamo al passaggio numero 7 il passaggio numero 7 è la parte distributive database e storage ovvero dove effettivamente andiamo a salvare le nostre informazioni i nostri dati la frase che sembra ovvia ma importante è che visto che ci sono più risorse che accedono contemporaneamente alla persistenza perché io creo tantissimi servizi tantissimi micro servizi abbiamo bisogno molto di più che un singolo database ok sembra un po' ovvio però hanno ragione e il consiglio che dà direttamente all'interno di questo punto è VITES quindi la proposta della foundation è questo database su base MySQL che permette di di essere clasterizzato e avere uno scaling orizzontale molto performante quindi VITES è la proposta graduata della foundation Rook invece è uno storage orchestrato per Kubernetes che racchiude diversi tipi di set di soluzioni storage quindi uno storage orchestrator per Kubernetes in modo appunto da poter avere centralizzato sempre lo storage in modo da poter accedere rapidamente da qualsiasi micro servizio allo storage con gli stessi tempi gli stessi SLA e la stessa latenza fondamentalmente qui c'è scritto indicato come il cervello di Kubernetes e TCD permette di storare i dati in un formato chiave valore in un sistema distribuito quindi un altro modo di memorizzare le informazioni in formato chiave valore è data da questo e TCD invece abbiamo poi infine TKV che è un database non SQL tipo chiave valore basato sul disegno di Google Spanner e HBase e scritto in Rust la peculiarità è che viene resa semplice la gestione eliminando le dipendenze di qualsiasi file system distribuito quindi se adotto questo non devo stare a preoccuparmi di configurare anche la parte di storage distribuita ci pensa direttamente lui anche qui ovviamente è stato molto difficile mettere diciamo i servizi che la foundation consiglia perché ce ne sono tantissimi e non sono menzionati c'è Redis per la cache distribuita c'è Oracle c'è MySQL c'è Cassandra c'è Apache c'è Postgre poi per la parte database fondamentalmente poi ce ne sono sicuramente altri altri che non mi sto ricordando la parte storage c'è NetApp c'è OpenABS c'è DataTera c'è Nutanix quindi ce ne sono tantissime anche la parte di storage allora poi vediamo insieme poi come andrà a cercarli tutti però capito dovete scegliere un sistema distribuito per il database e per lo storage dato Azure vediamo un po' che cosa ci viene offerto allora fra il database ovviamente spicca sicuramente Cosmos DB Cosmos DB è un database una SQL multimodello è già distribuito disponibile anche in modalità serverless è multimodello perché supporta tabular key value graph e altri che si caducono fondamentalmente in DocuNDB MongoDB Cassandra Gremlin quindi vari modelli viene spesso usato anche per soluzione IoT data la velocità che riesce a derogare e grazie allo Slack che è veramente molto stringente ma che riesce a garantire e quindi diciamo è un servizio altamente utilizzato ho messo comunque anche SQL Azure che non è propriamente open ovviamente è proprietario Microsoft però diciamo come database relazionale è opportuno menzionarlo ci sono varie modalità con le quali può essere distribuito geograficamente in alta affidabilità ovviamente parlo di SQL Azure ma parlo anche il manager di distanza e parlo anche di altre modalità quindi ho voluto menzionarlo magari è un po' una forzatura però chi non lo conosce e chi non ci ha mai avuto a che fare quindi mettiamolo all'interno per la parte di 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 storage ovviamente c'è Azure Storage con le sue varie declinazioni per esempio Azure Storage è anche menzionata all'interno della foundation ovviamente parliamo più in generale in questo caso ho voluto parli più in generale in questo caso di storage Azure Storage che è scadabile in alta affidabilità quindi basta ovviamente configurarlo e il servizio chiave in mano assolve la fidabilità e la scalabilità all'interno del cloud infine c'è Redis Cache anzi Azure Cache for Redis che è il servizio pass della Redis Cache quindi completamente manage dobbiamo soltanto andare a dimensionarlo e poi è totalmente compatibile con la versione nativa appunto io metto soltanto la connection point la connection thing che contiene l'inpoint e la chiave di sicurezza e poi posso utilizzarlo esattamente come un servizio classico installato non tramite Azure quindi questi sono i quattro servizi che vi ho voluto indicare siamo quasi a fine intanto ho l'arzura dalla corsa e della chiacchierata passiamo a streaming e messaging ovviamente qui parlo di streaming non legato al senso più prettamente casalingo di telefilm o film ma più generalmente di trasferimento di indicazioni cioè di informazioni in modo molto rapido cosa che un ecosistema cloud native è fondamentale quindi un invio molto molto rapido la foundation dice infatti che quando abbiamo bisogno di performance più elevate di quelle fornite da un sistema basato sul sistema JSON-REST è possibile sfruttare gRPC o NATS ok gRPC è un framework RPC universale dove RPC anche qui è un acronimo per remote procedure call NATS invece è un sistema di messaging multimodello che include un pattern tipo request reply o publish subscribe o code bilanciate ok cloud events invece è una specifica che descrive gli event data nella maniera comune semplificando la dichiarazione degli eventi e derivarli attraverso servizi piattaforme e altre modalità ok quindi questi sono gli strumenti che la la foundation ci consiglia gRPC è un appunto un servizio fatto scritto totalmente in C molto 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 rapido non so se Marco ha già fatto delle delle sessioni con gRPC con dei nostri amici che lo utilizzano è veramente molto interessante se non l'hai fatto Marco ti consiglio di chiamare Andrea oppure se l'hai già fatto magari poi linkiamo la sessione e NATS appunto è la parte di messaging che è possibile avere in cloud e anche in edge e la parte cloud events appunto è la specifica lato lato Azure cosa abbiamo abbiamo stream analytics che è uno stream processing una stream processing pipeline anzi per dirla tutta e effetto l'ingestion di milioni di eventi al secondo e li analizza fondamentalmente in real time li persiste li arricchisce arricchisce le informazioni che transitano che può servire per avere insight al momento oppure costruisco report ci scatena degli alert ci faccio altre azioni quindi diciamo la parte di stream analytics serve per analizzare gli stream e per capire un po' come quello che passa fra un sistema e l'altro un servizio e l'altro service base invece è lo strumento per connettere applicazioni e servizi fra i vari environment on-prem and cloud con la gestione di code e di topic in modalità publish e subscribe event hub invece è il servizio che permette l'ingestion di milioni di eventi al secondo è utile per connettere applicazioni servizi o device è in pratica una piattaforma di data streaming totalmente managed via pass gestita totalmente via platform e service event grid invece è quello che viene successivamente all'evento reagisce a un evento in near real time supporta eventi provenienti dai servizi Azure e non e supporta anche eventi custom e tramite l'apposita don supporta anche la possibilità di lavorare con eventi cloud events che è la specifica che la foundation consiglia quindi anche qui vedete che la piattaforma di Azure si adotta delle specifiche che la foundation adotta perché vuole essere compatibile con queste specifiche in modo da essere utilizzata nel modo migliore in modo da non vincolare fondamentalmente anche i propri clienti ad adottare soltanto servizi proprietari bene nove ci siamo quasi sento le gambe doloranti e anche la saliva sta ormai scomparendo parliamo di container registry runtime per container registry si indica letteralmente appunto il registro dei container salvato all'interno del servizio l'abbiamo detto un po' all'inizio quando mi ha parlato di docker e qui sono presenti appunto le immagini con i propri tag ed è quindi possibile avere un versionamento dell'immagine stessa in base al tag appunto so quale ogni tag rappresenta una versione all'interno la foundation ci consiglia arbor arbor è appunto un container registry che immagazzina firma scansione del contenuto di container come container alternativo se vogliamo utilizzare i più comuni che sono sia i compliant appunto sia i stop per open container initiative sono container e creo è un container runtime totalmente open source se andate il link poi c'è ovviamente tutti i riferimenti e creo è un'implementazione sia del container runtime interfezio di cooper rates ok quindi anche qui sono tutti strumenti da analizzare e capire se possono fare al caso nostro io ovviamente li sto menzionando perché sono quelle che menziona foundation nella mia esperienza lavorativa non li ho mai incontrati tutti per fortuna da una parte perché altrimenti non trorei mai sveglio la sera o il giorno forza di studiare sempre nuove componenti l'importante è capire le caratteristiche comuni poi ovviamente un servizio avrà feature migliori o peggiori rispetto all'altro oppure ne avrà o non ne avrà però l'importante è sapere che ci sono che ovviamente è possibile adottarli soprattutto se rispetto agli standard e i protocolli che la foundation consiglia l'altro Azure cosa abbiamo? Abbiamo Azure Container Registry che non fa altro che come come registry simile a Arbor gestisce lo storage gestisce le firme le scansioni è un servizio totalmente managed ovviamente anche questo e quindi va a completare un po' l'ecosistema arriviamo infine alla software distribution intanto arranco vedo doppio sono stanco diciamo alla fine del percorso come software distribution è quella di la software distribution appunto come andiamo a distribuire il nostro software verso le varie le varie piattaforme verso i vari vendor qui viene indicato un modo sicuro per distribuire il nostro software quindi ovviamente non è soltanto prendo il pacchetto e lo distribuisco oppure deploy il mio portale devo creare un qualcosa che mi permetta di essere certo che la provenienza di quel software è garantita viene consigliato notary notary ci garantisce la sicurezza perché garantisce l'origine del software chi distribuisce il software può firmare con una chiave e rendere disponibile la chiave pubblica per andare a cifrare il software cioè a decifrare il software che è cifrato all'origine e questa chiave pubblica appunto viene verificata prima con un server notarile per questo chiamo notary che certifica che la comunicazione non è alterata quindi oltre a certificare il software certifica anche che la comunicazione fra il frontend il backend o i vari servizi non sono alterati quindi non c'è qualcuno che nel mezzo va a sniffare quello che transita e notary è un'implementazione della rete attivo F che sta per the update framework e lì c'è il link a tutto al progetto che è completamente open su github anche questo the update framework è l'implementazione che su cui notary si basa su azure vedete vuota perché perché non c'è un qualcosa che permette di arrivare a un livello simile sulla sulla sicurezza dell'estibuzione sul garantire la cifratura della comunicazione l'unica cosa che riesce a fare è garantire la distribuzione tramite il github ma ovviamente i protocolli se vengono alterati o qualcuno sniffa qui non ci arriviamo quindi mancanza che magari poi verrà nel tempo nel tempo colmata bene abbiamo visto insieme la nostra trial map c'è anche insieme una landscape ok la landscape la vediamo insieme un attimo la slide andiamo qui avevo aperto anche tutto ma non vi sono state a elencare servizio per servizio altrimenti facevamo notte la landscape non è altro che lo strumento che va a identificare tutti i servizi che sono nella nel mirino della cloud native foundation quindi la trial map come vedete questo png immensa 7600 se lo zoom infatti non si riesce nemmeno più a leggere anzi mi si è proprio piantato edge forse ecco vedete ho avuto un po' uno svarione questi sono tutti i servizi che ho riportato però questo è veramente tutto il panorama completo quindi se volete scegliere database clicchiamo su database e qui vediamo tutti i servizi che per lui possono essere utilizzati per la scelta di un database ricordate vites l'avevamo menzionato perché fa parte in blu appunto sono i servizi che sono maggiormente seguiti dalla foundation ti kv abbiamo visto ma vedete c'è posgre mysql c'è oracle percona seata altri nomi che magari non ho mai visto snowflake lo conosco benissimo redis vedete sono tantissimi servizi quindi sappiate che avete bisogno di un servizio che assorba qualcosa tramite anche la landscape riesco tranquillamente ad andare a avere un elenco servizi che posso fare anche una software selection fondamentalmente una service selection quindi service proxy se vado qua vedete c'è envoy c'è f5 c'è nginx ce ne sono tantissimi quindi ci permette un po' di andare a lavorare nel mondo e andare a capire effettivamente quanti servizi ci sono nel mondo chi li utilizza perché comunque andando anche sul singolo ci dice qual è le informazioni qual è il sito quale quante quante quanto è diciamo famoso quante persone ci lavorano il seguito chi ha i vari siti riesco veramente ad ottenere tutte le informazioni in modo molto rapido poi ovviamente dovrò studiarmi dovrò testarle dovrò fare tutto quello che ci serve per andare a lavorare però è lo strumento molto molto carino quindi se volete iniziare un percorso sul cloud native e capire quali sono tutti i componenti il consiglio mio che do è quello di utilizzare la trail map per capire quali sono i passaggi fondamentalmente ed ogni passaggio andate a utilizzare la landscape a questo link landscape.cloudfoundation.io è presente oppure c'è anche il query code qua dentro e potete andare a fare tutte le analisi che volete sono stato anche abbastanza rapido ho terminato quindi qui vi riporto i miei collegamenti a linkedin twitter github se volete linkarmi linkatemi pure e rimango in ascolto se avete qualche domanda se non vi ho ammazzato tutti con le mie chiacchiere marco lavorando nell'enterprise ti diceva è cloud native bene e ti tirano fuori dei servizi che magari la persona ha conosciuto in passato nelle varie esperienze oppure non ne so gli ha consigliato un amico quindi diceva bene allora andiamo a vedere se la foundation lo supporta se lo supporta allora riesce a capire come funziona se non lo supporta parte la strategia a dire al cliente guarda che è un servizio che non è supportato stiamo attenti vediamo se ne troviamo un altro quindi comunque ci dà un buon vantaggio ci dà un buon strumento la foundation perché comunque ci dà una mano a lavorare sul cliente in modo molto puntuale e avere una base d'appoggio per avere una manleva per anche proporre un qualcosa di più congruo per il cliente ovviamente io ho voluto fare un paragone con Azure perché è la piattaforma che utilizzo più spesso quella che mi piace più utilizzare fondamentalmente non lo nego però diciamo ci capita spesso di lavorare con altri prodotti che magari quel contesto lì sono più ritagliati per i clienti quindi per noi l'importante è far sì che il cliente sia soddisfatto poi tutto lì e quanti ne conosci di quelli Marco tantissimi anche te se vuoi te lo diapro e vuoi giocare dimmi dove vuoi andare sono tantissimi ma allora diciamo che diciamo che ci sono due temi qua dentro uno scusate che c'ho il cane o la mascotte ci sono due temi qua dentro uno il fatto che comunque i clienti continuano che i clienti continuano a chiederti ma io devo essere lavorare a un premise se allora devo avere l'immagine a container però d'accordo allora ti tocca usare ti tocca attingere da questi però questo comunque non risolve il problema del fatto che comunque per quanto containerizzato quanto tanto dopo te lo devi gestire quindi effettivamente quando sei poi in Azure onestamente ti viene più voglia di lavorare con un platform as a service perché comunque l'obiettivo della foundation è perché perché molti molti non vogliono essere troppo vincolati dai dai big vendor no ovviamente vedete qui kubernetes hosted e c'è hps però tu dici c'è c'è ci sono tutti i vari competitor perché ovviamente non possono escluderli anche perché sono basati su vedete hps c'è qui fondamentalmente però se possono dire guarda utilizza un'altra tipologia che può comunque girare sui cloud vendor ovviamente devi creare magari un'infrastruttura IaaS che devi monotenere quindi alla fine che vantaggi hai hai vantaggi ridotti sulla scalabilità ce l'hai però comunque li devi monotenere devi avere sempre qualcuno che li monotiene però lì sta ovviamente alle scelte dei clienti le enterprise sono più attenti a non essere vincolati dai big magari le aziende un po' non più minori come dimensione non hanno questo problema e se abbracciano un vendor lo portano avanti tranquillamente è presente ti ricordi quando abbiamo dato un'occhiata a Kafka che oramai in realtà non ho capito se è sparito oppure no o meglio non è sparito però non è più l'ultimo grido però si puoi configurarlo e configurarlo e renderlo resiliente è difficile per esempio per un progetto ho dato un'occhiata per esempio a Zookeeper per esempio che quindi significa entrare un attimino nella parte dei key value store quindi TKV Vitesse cosa del genere non sono semplicissimi ho cercato di guardare anche ETCD per esempio ok ok ma io capisco capisco tante cose anche da dox no capisco io capisco molto i clienti che scelgono magari i singoli servizi e comunque decidono di doverli gestire perché comunque questo li rende indipendenti però cavolo cioè parti veramente un sacco di tempo a me piace ovviamente quando quando è possibile consegliare un servizio gestito perché se hai un problema ti alzi la fornetta poi sono altra gente che si smazza il lavoro per te perché comunque ti devono garantire uno slot quindi non funziona c'è qualcosa che non va apri un ticket e dall'altra parte del mondo magari proprio dall'altra parte del mondo c'è qualcuno un team che lavora per te senza dover stare a perdere giornate giornate per magari risolvere qualcosa che non dipende da te comunque il vendor dell'open che gestisce l'open perché poi è un open che magari è gestito da qualcuno oppure gestire la community e lì devi aspettare qualcuno che faccia qualcosa quindi diventa complesso come materia poi vedete quanti servizi ci sono è da mal di mare sì che provocano poi comunque poi una frammentazione è una frammentazione non da poco cioè devi aspettare deve passare un bel po' di tempo finché poi quel servizio diventi effettivamente lo standard di riferimento sì perché poi magari avendo diciamo suddiviso in blocchi in questo modo cioè suddiviso in blocchi la trail map però immetti che un servizio terzo va a rompere un qualcosa di un altro servizio la colpa non è di nessuno perché uno può sapere che va a rompere qualcos'altro però ti crea un danno e magari su un servizio completamente manager invece vengono fatti controlli prima di rilasciare magari anche in altri contesti quindi sono tutti aspetti che uno deve mettere in conto capisce che che ci sono se li mette come assunzione e poi se c'è da reagire uno reagisce quando c'è l'evenienza l'importante monitorare l'importante è tenere sotto controllo poi il sistema già va bene dai ultimo tentativo siete timidi ancora andiamo aspetta Andrea dice come si fa a provarli tutti e fare una scelta ponderata auguri non si può tutti tutti non si può infatti cosa viene fatto di solito vengono scelti quelli graduated quelli in incubating magari che sono un po' sponsorizzati dalla foundation oppure vengono scelti i vendor più grandi per esempio service proxy ce ne sono tantissimi c'è f5 c'è ngx per esempio qui è Envoy sembra che è il grande protagonista Envoy è il blu perché è gestito la foundation contour è un altro che è in incubation alla foundation questi sono vendor che sono famosi f5 io lo trovo ovunque come il prezzemolo perché comunque è un ottimo prodotto però dice quale scelgo vado su f5 che ha un costo oppure vado su questo che magari ha un costo diverso però ha una manutenzione in più sono tutte prove da fare il meglio ovviamente è rivolgersi a loro e farsi fare le prove da loro quindi non studiarselo in casa ma coinvolgere loro per avere un po' di demo e spiegazioni e poi dopo provarli creare un più ossidio del contesto e provarli il solito approccio è sempre per step anzi come dicono con i bravi un approccio lean quindi creo una piccola cosa la provo se va bene continuo se non va bene cambio già va bene dai sono tutti timidi no li ho ammazzati tutti lo so è un argomento ostico c'è tante cose poi ovviamente bisogna un po' trovarsi però fondamentalmente sappiate che c'è qualcuno che pensa a noi povere persone che dobbiamo poi andare a abbracciare un po' tutte le varie parti l'importante è capire che in un contesto cloud native i dieci passaggi sono fondamentali cioè non puoi creare un'applicazione cloud cloud native se non ci metti la parte di osservability analysis oppure se non vai a curare la parte networking prima o poi la parte di diciamo la lentezza dello scambio dei dati verrà fuori magari la parte software distribution è quella magari un po' più posticipabile però anche lì lasciatemi dire se vogliamo garantire che nessuno vada a sniffare le informazioni ebbene comunque un passaggio ci venga fatto quindi i passaggi sono questi qui c'è del minestrone di roba da prendere dobbiamo scegliere e anzi il minestrone e meno di roba da prendere c'è da scegliere quello che più fa il caso nostro che c'è del minestrone che c'è del minestrone che c'è del minestrone che c'è del minestrone che c'è del minestrone